Siamo con un insegnante della scuola 4 novembre, ecco quanto è importante dare questo tipo di messaggi ai ragazzi? È importante perché la scuola si pone con l'obiettivo della prevenzione e quindi è un messaggio che a volte sembra un po' anticipato specialmente per i ragazzi di seconda media, però laddove loro camminano con le proprie gambe, con la propria testa e con un'informazione adatta sicuramente poi saranno capaci anche di dire no quando è necessario e saranno preparati e confrontandosi anche su qualche termine che magari noi insegnanti non abbiamo ancora acquisito e chiedendo a loro senza falsi timori insomma. C'è un termine appunto come diceva la tua insegnante che stamattina hai sentito del quale non avevi mai sentito parlare? Quello lì del grooming, un adeschiamento per i minori che è molto vietato, cioè l'hanno inventato tanti anni dopo e è stato molto interessante anche sentirlo. Tu sei capace di navigare immagino? Sì sì. Quindi starai più attento da oggi in poi? Ecco, ho preso anche molti appunti, sì sì, per navigare per me è facile.